Ciao, eccomi al consueto appuntamento di analisi settimanale di percorso finanza, vedo dei commenti che sta piacendo, mi fa piacere, il canale sta crescendo, quindi sono contento, certo non sono numeri da far girare la testa, ma io mi accontento di quello che sto facendo e cerchiamo adesso di fare il punto di quello che è stata la settimana. La settimana come si può vedere questa è l'Italia che ha fatto un più 1,36, anche l'Europa un più 1,81, peggio invece è stato il Nasdaq con un meno 2,18, lo Standard & Poor's un meno 1,82, il World invece è salito anche grazie appunto alla diversificazione e la presenza anche dell'Europa e anche dell'Asia, l'Asia che ancora ci sono state delle festività però ha fatto più 1,22 in genere in Paris, il Giappone ha avuto dei giorni di festività, comunque la settimana rispecchia quello che abbiamo detto da tempo, sicuramente i mercati europei sono più in forma perché hanno una presenza di titoli value rispetto all'America più importante, hanno un, generalmente pagano di più i value rispetto ai growth, quindi hanno un ritorno se vogliamo in termini di rendimenti e di utili attesi maggiore di quello che è in America, l'America come ti ho fatto vedere l'altro mese mi sembra in un'analisi è sicuramente il mercato che sia il Nasdaq piuttosto che lo Standard & Poor's con il pre-Cern in più alto in questo momento al mondo, la stagione degli utili sta andando molto bene comunque sopra la media storica quindi questo deve tranquillizzare perché quello che sto vedendo è un panico generalizzato, un isterismo sui mercati finanziari e cerchiamo di essere razionali e non farci prendere anche noi da questa paura generalizzata. Quali sono le paure? Te ne parlo, in particolare ti voglio parlare in questo video più avanti dell'ottimizzazione fiscale che ci può stare e anche del concetto di rischio, poi magari la prossima settimana sto già preparando un video su quello che sono i rendimenti attesi che ci possiamo aspettare nei prossimi anni, qualcuno me l'ha chiesto, lo sto preparando e quindi ti dico pazienta ancora un attimo e ti faccio vedere i rendimenti attesi, comunque non è un concetto di brevissimo termine quindi per la prossima settimana nel senso di rendimento atteso della prossima settimana ma piuttosto di un rendimento atteso ipotetico per i prossimi anni con un'inflazione crescente. Che cosa invece ci possiamo aspettare nel brevissimo periodo quindi nella prossima settimana o qualche mese? Bene, come ti ho fatto vedere già nelle altre analisi il pessimismo è dilagante per quanto riguarda i traders sia dal punto di vista dei sondaggi che non ti sto a far rivedere ma comunque sono ancora molto negativi, sono preponderanti le risposte di attesa di un mercato ribassista, anche i flussi sugli ETF dimostrano una grande tensione da parte dei trader in questo strumento finanziario che si può trattare come un'azione quindi sono molto veloci nel comprare e vendere, siamo dei livelli estremi, generalmente questo coincide con dei minimi. Quindi che cos'è che potrebbe ancora mancare all'appello? Beh, il popolo dei fondi comuni di investimento, sono come ti ho detto il vantaggio di un fondo comuni di investimento rispetto a un ETF è che il fondo comuni di investimento per disinvestire dovendo andare in banca, dovendo andare a firmare delle carte, dovendo confrontarci con un consulente che cerca in qualche maniera di riportarci alla razionalità e nell'essere coerente con il tuo investimento di lungo periodo, generalmente non si hanno dei disinvestimenti diciamo isterici è ovvio che quando si verificano questi disinvestimenti isterici anche sui fondi, ecco quello generalmente è il minimo del mercato. La prossima settimana usciranno anche i dati di assogestioni per quanto riguarda il mercato italiano il mercato americano, ti anticipo, sì ci sono dei deflussi ma non siamo dei deflussi record non voglio dire che il minimo deve ancora arrivare, credo che comunque c'è stata pulizia sul mercato quindi sono positivo per la prossima settimana, mese, è un periodo, febbraio non è mai un mese esaltante in termini di ritorni medi, però marzo, aprile e diciamo maggio sono generalmente migliori. Quindi rimaniamo statisticamente positivi, visto anche il grande deflusso che c'è stato nei fondi comuni, negli ETF, piuttosto anche negli acquisti di ETF short va bene, anche record di opzioni put, ma non voglio andare sul tecnico ti voglio far vedere una cosa. Gli eventi della settimana che hanno caratterizzato un po' di isterismo sono stati il primo, l'Alagard, che ha parlato in occasione della riunione della BCE ha detto è stato un po' falco, un po' colomba, che cosa vogliono dire a questi termini? Generalmente il falco è quello che vuole rialzare i tassi la colomba è quella invece che è più per una politica monetaria accomodante. L'Alagard ha detto due cose, uno da una parte ha detto no, l'inflazione si rimetterà da sola a posto senza il bisogno di un intervento della politica monetaria, quindi di un rialzo dei tassi di interesse dall'altra parte ha detto che continua a monitorare l'andamento dell'inflazione quindi ha lasciato una porta aperta. Il mercato, ti dico, sta scontando due rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE entro l'anno 0,25 e 0,25. Per quanto invece riguarda l'altra notizia che è stata di giovedì, qui è isterismo puro perché un'inflazione attesa del 7,2 invece è stata del 7,5 non ci dice molto, è vero, sui massimi dell'82 quant'altro l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato negli altri analisi però diciamo che non è che ha cambiato l'idea questo però fa sì che il mercato, gli analisti iniziano a scontare una politica monetaria americana un po' più aggressiva, quindi invece di rialzi da 0,25 magari dei rialzi da 0,50 però diciamo io lo metto nell'area pessimismo cosmico per cui questi sono i due eventi che hanno diciamo caratterizzato la settimana faccio vedere una cosa per chi mi segue da più tempo avevo dato indicazioni di Unicredit poi dopo c'era stato il momento di non matrimonio con Monte dei Paschi che aveva fatto scendere Unicredit poi la comunicazione dei dati e le aspettative sui risultati futuri ha fatto sì che andasse particolarmente bene Unicredit ti faccio vedere Unicredit per introdurti tre concetti se vogliamo il primo concetto che ti voglio far vedere è che io ho fatto cassa con Unicredit ho venduto Unicredit non perché dall'aspetto tecnico diciamo che è arrivato a un livello io avevo messo questa linea come obiettivo che mi ero dato di prezzo infatti poi è andato ma poi è ritornato su diciamo che ho temporeggiato un attimo perché quando ci sono un rialzo dei tassi sicuramente i finanziari ne possono beneficiare quindi sicuramente i finanziari sono un settore che potrebbe sovraperformare ma non voglio illuderti perché ho fatto cassa? bene ho fatto cassa perché ti spiego questo aspetto di analisi fiscale perché dall'altra parte io avevo preso un ETF sul Clean Energy perché era il mega trend del momento io mi frego sempre con questi mega trend dovrei tagliarmi le mani tutte le volte perché non ci credo ma poi ci casco sempre magari in parti molto piccole del portafoglio comunque avevo messo questo all'occasione di Glasgow quando c'era stata l'arlingone avevo preso siccome era già sceso abbastanza aveva fatto un movimento e avevo preso e ho sbagliato quindi avevo una minusvalenza una minusvalenza sull'ETF che sono andata a compensare quindi mi sono tolto quel peso con la plusvalenza di Unicredit ecco io non faccio titoli generalmente adesso ti spiego il perché però ogni tanto quando vedo ho bisogno anche di fare dell'efficienza fiscale quindi che cosa vuol dire che se dall'altra parte stavo perdendo qualcosina andando a recuperare la minusvalenza dell'ETF ho recuperato in pratica un quarto delle perdite il 26% dall'altra parte ho venduto una cosa che potrebbe ancora salire ok magari poi mi ritorna a 30 euro che ne so ma questa è la borsa ho venduto Unicredit in pratica non ho pagato il capital gain perché l'ho compensato con l'ETF quindi è come se io avessi o due punti di vista o ho ridotto le perdite dell'ETF di un quarto oppure ho venduto accettando un premio del 26% sul prezzo di Unicredit non avendo pagato il capital gain ecco questa è un'operazione quindi non ho venduto Unicredit perché non sono più convinto in Unicredit ma perché in questo momento mi è servito Unicredit per fare efficienza fiscale detto questo perché non faccio molti titoli qualcuno mi scrive ma mi dici come fare i titoli adesso ti spiego il perché io sono sempre un po' restio a comprare i titoli allora il concetto è sulla base del rischio dirai adesso mi fa la solita pappa sulla diversificazione non esattamente non è quello che ti voglio far vedere ecco io penso questo nei mercati finanziari puoi comprare la forza o la debolezza quando è che compri la forza o la debolezza? bene io ti consiglio di comprare sempre la forza nei titoli e comprare la debolezza invece negli indici questo è una mia regola è il mio metodo te lo provo a spiegare meglio in un titolo il rischio assoluto non è misurabile perché ti manca l'evento peggiore il default che cosa vuol dire? vuol dire che se io misuro il rischio di un titolo e quindi per misurare il rischio di un titolo devo vedere quali sono stati gli andamenti storici quindi le massime perdite che ha avuto nel passato per quanto io riesco a misurare il rischio di quel titolo non saprò mai il rischio è peggiore perché se il titolo c'è vuol dire che non è mai andato in default si potrebbe dire generalmente in filosofia si dice penso quindi sono vorrei aggiungere se smetti di pensare smetti di essere in finanza potremmo dire questo esisto quindi ci sono quando smetti di esistere non ci sei più è un po' il concetto è questo quindi in un indice al contrario i default sono calcolati e impattano grazie alla diversificazione in maniera quasi irrisoria provo a fare un esempio anche di questo se io vado a vedere l'indice l'andamento storico di un indice troverò sicuramente all'interno di quell'indice dei titoli che sono falliti supponiamo anche Apple la più grande azienda al mondo ok io ho comprato il Nasdaq e c'è l'Apple ok l'Apple inizia a andare male l'Apple inizia a andare male quindi dalla più grande diventerà la seconda più grande poi la terza poi la quarta poi la quinta finché a un certo punto quando sta per andare in default il prezzo è talmente ha già perso in tutto questi anni di peggioramento dei dati per cui quando mi andrà in default nell'indice non peserà più come l'azienda più grande al mondo ma peserà come una delle più piccole aziende dell'indice perché il suo prezzo è sceso nel tempo ovviamente ci potrebbe essere il caso di Lehman Brothers che dall'oggi al domani mi va a fallire Apple potrebbe uno scandalo un qualcosa a fallire in questo weekend ok potrebbe essere è una probabilità ma quanto mi impatta sul mio sulla mia diversificazione sicuramente meno di cosa potrebbe succedere se io avessi solamente Apple ecco quindi in questo senso ti faccio vedere questo è il grafico storico di Unicredit Unicredit è arrivato a questo livello uno potrebbe dire bene allora quando arriviamo a questo livello vedi sta rompendo quindi nel mio senso che io qui ho venduto se vogliamo per il lungo periodo ho anche sbagliato perché è molto probabile che finalmente magari possa andare a riprendere però allo stesso tempo qual è il concetto? è vero i finanziari beneficiano dei rialfi dei tassi di interesse però è anche vero che gli tassi di interesse potrebbero causare dei fallimenti in molte aziende alle quali magari Unicredit ha prestato i soldi ti riporto ti riporto a uno dei primi video che ho fatto quello sul calcolo della solidità patrimoniale di una banca per quanto riguarda il CET1 quindi potrebbe fallire Unicredit sì potrebbe in teoria fallire perché rialzano i tassi di interesse da una parte ne potrebbe beneficiare dall'altra parte potrebbe aver prestato male i soldi e quindi se il mondo andasse in recessione sicuramente il settore finanziario ne potrebbe risentire quindi non posso mai dire che questo è un livello sul quale io devo andare a comprare in teoria sì tecnicamente sì ma io non so se questo può fallire se invece guardo l'indice che rappresenta il settore finanza dell'Italia sicuramente non è andato bene nel lungo periodo ma quando arriva a questi livelli come puoi vedere bene allora sì che posso a dire posso comprare poi magari a sto livello Unicredit può fallire Monte dei Paschi può fallire Carige può fallire ma la media dei titoli farà sì che il fallimento magari di Unicredit o Monte dei Paschi può avvantaggiare magari Banca Intesa piuttosto che Popolare dell'Emilia Romagna per dare dei numeri così non voglio spaventare nessuno ho usato degli esempi ecco in questo senso quindi se l'indice mi arriva qui compro la debolezza se invece mi arriva qui a dei livelli di estremo pessimismo o di ribasso un indice un titolo starei molto attento perché potrebbe andare in default l'indice non andrà mai in default questo è il concetto di base del rischio ecco perché il consiglio sempre compra la forza nei titoli perché vuol dire che ha fatto utili e quant'altro compra la debolezza negli indici grazie dell'attenzione erano di più le cose che volevo dirti sono andato avanti con il tempo quindi va bene così dovrei appuntarmele durante la settimana le idee che mi vengono da mettere nel video un po' come il tenente Colombo quando va a fare la spesa ma sinceramente non l'ho fatto e quindi sono sicuro di dimenticarmi qualcosa ma va bene la prossima settimana al prossimo video sicuramente te le dirò buona domenica ciao e grazie ancora a presto seguimi ovviamente nei vari canali social se metti un like se ti è piaciuto e iscriviti al canale lo devo dire l'ho detto ciao ancora grazie buona domenica